possiamo fare di meglio però e allora salutiamo i nostri amici Nicola l'impegnatore e il mister Freddo e Emanuele Freddo ricordiamo che purtroppo il mondo è decisamente il suo lontano e non aiuta i nostri amici a effettuare le loro manole e via subito in monoruota il nostro amico Emanuele ci dobbiamo far sentire un po' di più perché se no Emanuele non esagera allora gli facciamo un bel saluto degno e in piedi il nostro amico non conosce i limiti ed ecco Nicola l'impegnatore un applauso anche per lui ovviamente Nicola viaggia esclusivamente in monoruota e non abbassa mai facciamoci sentire da Nicola senza mani è un bel 360 gradi per lui se lo incidiamo magari provo a mettere la mano a terra non c'è problema e allora facciamoci sentire è spenta eh un applauso per Nicola ecco di nuovo il nostro amico Emanuele vediamo se ci regala un bello stop direi proprio di sì top per lui fino alle transene e una toccatina grande troppo spettacolosa e di nuovo in monoruota vediamo se ci fa un po' di scintine la natale posteriore e di nuovo lo stop a salutare il pubblico è ancora uno stop provo a ripartire il lavoro e di nuovo in monoruota Nicola vuole esagerare e via in monoruota speriamo se ci fa vedere in quanti modi si può portare a una Vespa secondo me Nicola ne conosce più di qualche duro un applauso facciamoci sentire ma non credo che sia finita di te quando non si ha spazio sulla Vespa bisogna trovarle tutte allora ci facciamo sentire un grande applauso per Nicola grazie a tutti